Tanta, tanta, tanta luce per la nostra ora solare, ora solare più che mai, ora solare anche oggi. Sono le ore 14 o quando voi ci vedrete in replica e la storia che vi vogliamo raccontare è la storia di una ragazza, anzi di una bambina, che attraverso gli anni terribili della guerra e il valore in grande, infinito, meraviglioso del pane riesce ancora oggi a raccontarci tutto questo. La professoressa Margherita Ogero. La professoressa ha avuto un sussulto. Cos'è? Grazie. È vero. Lo ero. Non lo so da più da parecchio tempo. Ma scusi mi faccia capire ma un generale, mica lo chiamano ex generale, un generale è un generale. Generali sono un'altra cosa, insomma. I prof scadono. Lei è scaduta come lo yogurt, signora? Non credo. Sì, io la mozzarella. Ma assolutamente no. Non le date retta solo da questo punto di vista. Allora, ex insegnante di lettere e come tale scrittrice, dico come tale nel senso che ha saputo farlo molto bene, ma sulla scrittura arriveremo tra poco. Noi grazie a lei entriamo in un racconto che è bene che tutti conoscano, perché alcuni lo vedono oramai con i contorni sfumati quasi di un film. La guerra, la seconda guerra mondiale, che per lei incomincia quando è una bambina. Incomincio quando sono nata praticamente, perché, scusate, io sono nata nel marzo del 40, la guerra è scoppiata in giugno, però io non ho conosciuto mio padre sino alla fine del 43, perché mio padre era già stato richiamato. Avevo pochi mesi, quindi quando lui è stato richiamato io non potevo conoscerlo, non avevo idea che fosse mio padre quella persona, perché avevo pochi mesi. Eccolo qua il papà. Eccolo. E quando è tornato dalla ritirata di Russia, non corrispondeva affatto alle sue fotografie. Io avevo tre anni e quando lui è comparso in casa, magro come un palo della luce, distrutto fisicamente, e la mia nonna che era con noi ha detto, quello è il tuo papà, la mia risposta è stata no, non lo voglio, mandatelo via, non è mio padre, non lo voglio, non lo voglio, non lo voglio. Io dico signora, le ha fatto paura? Sì. Intendendo con questo, forse lei è stata con quel non lo voglio, la testimone più diretta e più sincera di cosa voglia dire la guerra, che mistifica anche e trasforma le persone. Le trasforma e crea, oltre a quelli che sono, i danni diretti, diciamo, e cioè l'aver fatto la ritirata di Russia a piedi dal Donald Brenner dove finalmente aveva poi trovato una tradotta militare, quindi distrutto fisicamente, non aveva più un dente in bocca per la vitaminosi, eccetera, eccetera. Però poi la distruzione anche psicologica, non solo quella che gli era toccata in questa ritirata terribile, ma nel fatto che la bambina a cui lui aveva pensato indubbiamente negli anni della guerra e durante tutto questo periodo, invece non lo voleva, lo rifiutava sostanzialmente. Ma perché non corrispondeva A alle fotografie e B perché per me era un intruso sostanzialmente, non corrispondeva all'idea di padre. Allora, arriviamo tra poco al padre e ai nonni che fanno i nonni, i nonni che anche durante la guerra, quando erano presenti, sono stati la salvezza delle famiglie. C'è una storia nella storia che è quella tenerrima tra sua madre e suo padre, sua mamma che fin dove ha potuto e finché ha potuto mandava a suo papà i vasetti di Liebig. Voi ve lo ricordate l'estratto di carne? L'estratto di carne, certo. Che era una rarità in guerra. Era una rarità e costava tantissimo, quindi mia mamma si dava da fare per riuscire a trovare questo ricostituente, diciamo così, o comunque questo alimento che poteva servire a mantenerlo in vita o comunque a dargli ancora un po' di nutrimento dato che negli ultimi tempi il rancio era estremamente scarso. Quando c'era. Quando c'era. Quando c'era. I limoni perché i limoni servivano per aiutavano a disinfettare, aiutavano a dare vitamina C. Allora abbiamo visto prima queste fotografie bellissime che ringrazio la signora Magrita per averci portato, che sono il racconto di una vita che si cercava di tenere il più possibile normale per una bambina e accanto il disastro, il disastro della guerra. Sua mamma come ha fatto a ricucire, a costruire questo rapporto tra lei e suo papà? Ci sono voluti anni per la verità, perché probabilmente mio padre, già psicologicamente distrutto, era rimasto credo scioccato pur essendo una persona adulta, quindi capace di razionalizzare eccetera eccetera, però i sentimenti poi non sono razionali. Quindi scioccato da questa reazione violenta e anche dal fatto che io per mesi, ma anche per anni devo dire, cercavo come padre mio nonno e non lui. Quindi c'era anche questa sorta di difficoltà da parte sua di accettare una paternità estranea, che era quella di mio nonno, perché verso mio nonno non appena lui arrivava io l'abbracciavo, gli saltava in grembo eccetera. Suo nonno, quanto è bella qui, suo nonno che persona è stata? Mio nonno era un operaio specializzato alla Fiat, quindi per questo non era stato in qualche modo coinvolto nella guerra, poi comunque aveva già un'età per cui non era più richiamabile diciamo. Mia nonno era una persona con me dolcissima, era abbastanza burbero in casa, nel ricordo di mia madre, poi anche di mia nonna che lì è sopravvissuta. Ma come sempre, come nonno era un vasetto di miele. Come nonno, certo, era un vasetto di miele, mi portava dei cartoccetti di caramelle quasi sempre tutte un po' sciolte insomma. Io non so come si procurasse perché durante la guerra non era così facile riuscire a reperire dolciumi. E poi non so, mi portava in bicicletta, mi insegnava tante cose che per me sono stati importanti. Per esempio il nome degli alberi. Il nome degli alberi? Il nome degli alberi, perché lui si arrabbiava tantissimo quando la gente diceva c'è una pianta. Diceva le piante hanno un nome, agli animali date un nome, non dite mica ho visto un animale, dite ho visto un cane, ho visto un gatto, una pecora, una mucca. Però gli alberi per voi sono tutti uguali, perché lui era innamorato delle piante, quindi ho imparato da piccola i nomi delle piante, in dialetto naturalmente. Poi ho dovuto fare una tabella di conversione. Come professoressa in questo, la tabella di conversione è terribile. Bellissima, bellissima. Allora, provate, provate, provate per favore, per chi è più giovane e per chi quei tempi se li ricorda, per chi è più giovane, ascoltate con fame di parole questa intervista, perché è tutto vero, perché suo nonno aveva le mani d'oro e sapeva aggiustare di tutto e veniva pagato quando la gente poteva con... Con cose. Esisteva il baratto, quindi il baratto del lavoro contro un cesto di verdura, contro sei uova, contro due litri di latte, un litro di latte dipendeva dall'entità del lavoro, naturalmente. C'era la tessera annonaria, signora. C'era la tessera annonaria, certo. La tessera annonaria dava diritto a una certa quantità di alimenti legata al sesso, perché per gli uomini la quantità di alimenti era superiore rispetto a quella delle donne. Perché? Perché la statura fisica o comunque la massa muscolare, in ogni caso gli uomini sono più forti spesso. Le donne però dovevano fare i figli? Eh, le donne dovevano fare i figli per le donne in gravidanza, però tenga conto che c'era la guerra, le donne che partorissero non ce n'erano tantissime. Cioè noi donne prendevamo comunque di meno? Sì, certo. Che bello. Certo. Sono soddisfazioni. Come si dice, ma al di là di questo, c'era la guerra, non entriamo in polemiche, in polemiche, non entro in polemiche stupide, quindi scusatemi. Però faccio una cosa, mi fermo, solo per un istante, la professoressa Margherita ha in mano un libricino che da solo, credetemi, da solo vale tutta la storia che ci sta raccontando e quindi noi tra poco lo apriremo e vi faremo vedere una cosa. A tra poco. La professoressa Margherita Ogero, che poi arriviamo al perché si è diventata scrittrice, ci sta raccontando gli anni della guerra, seppur vissuti da bambina bambinetta, quindi lei non ha ricordi diretti, va bene? Sì, ricordi li ho da bambina, però no. La bambina piccola, insomma, i ricordi proprio della... I ricordi infantili. Quelli infantili, i minimi, i primi ricordi che si possano avere. Un nonno meraviglioso che le ha fatto anche da papà, un papà che per tutti noi, sapete, per tutti noi, perché in quel momento sembrava che fosse la cosa giusta da fare, va in Russia e fa la ritirata di Russia. Se qualcuno ricorda che cosa voglia dire tra i più giovani, abbiate in mente che stiamo parlando di una cosa terribile. I rapporti con questo papà, piano piano, faticosamente, molto lentamente, però insomma è arrivato il giorno in cui lei gli ha dato un abbraccio come ci voleva, no? Certo, però questa confidenza che avevo con il nonno era un po' una confidenza che andava a scapito di mio padre. Poi tenga conto che la casa nostra, l'appartamento in città era stato bombardato, per cui quando è finita la guerra e dallo sfollamento vicino a Torino, adesso è Torino, ma insomma allora era campagna, siamo tornati in città e i miei non avevano casa e quindi hanno dovuto affittare uno stanzone, una specie di rimessa, sfordita di ogni comodità, non c'era neanche una canna fumaria per poterla riscaldare. Per cui mi hanno allocata dai nonni in maniera che io fossi un po' più... Trattata meglio. Trattata meglio, però questo ha acuito la frattura in qualche modo perché è... Ha reso tutto più lontano. Ha reso tutto più lontano. Ma questo quaderno che lei ci ha portato che cosa contiene? Questo quaderno contiene gli appunti di mio padre durante la guerra, intanto un piccolo vocabalarietto di russo probabilmente, certo. Posso? Guardate come è scritto, guardate la tenerezza, un po' di russo. Questo non si poteva girare perché le mani erano gelate. E ancora che cosa, signora? E poi c'è tutta la cronistoria, diciamo, della partenza. Prima c'è tutto l'elenco, scusa, delle lettere ricevute e rispedite. Lei ne ha più trovate le lettere che la mamma? No, perché sono andate perse in tutti questi anni. E poi c'è invece l'andata in Russia con indicati... Guardate, è incredibile. Carmagnola, Piacenza, Cremona, Brennero, Austria, Innsbruck e poi ancora ancora fino alla neve del generale Inverno che tutto sconfisse e che fece sì che questi uomini vedessero... Vedessero, guardate qua, guardate ancora, questi uomini vedessero morire i propri compagni accanto. Allora, chiedo alla professoressa, ai suoi allievi, lei che cosa ha insegnato? Io ho insegnato prima di tutto quello che richiedeva il programma in qualche modo. Sì, e in più delle cose di casa sua? Delle cose di casa mia, poco. Perché? Poco perché ci va un minimo di distacco professionale, però le ho insegnato a ridere, credo. Perché mi sembrava che fosse molto importante. Nel senso che prendere la vita con un minimo di leggerezza, con un minimo di ironia, con la capacità di saper sorridere anche nelle disgrazie. Non ridere, sorridere. O comunque di spostarsi con un occhio un po' laterale, di sbieco, per vedere quello che di piccolo positivo ci può essere nel negativo. Ecco, questo ho cercato di insegnarglielo. Io fra poco vi mostro un altro quaderno, anzi è un libro, ma questo libro l'ha scritto la professoressa Gero. Non prima di avervi fatto vedere un, diciamo così, uno studente che sicuramente farebbe piacere conoscere a questa professoressa. Studia, eh? Studia con dei ritmi che non avete idea. È a 96 anni. Guardate un po'. Mi sono iscritto all'Università di Palermo nel 2017, avevo già 94 anni di età. Avevo sempre amato la lettura, la scrittura, da sempre, da ragazzo. Lavoravo e con l'economia andavo a comprare i libri. Ho fatto 42 anni di lavoro nelle ferrovia dello Stato. Mia padre, la mia amica, se si rendeva conto che avrei dovuto, che ho proseguire gli studi, mi dicevano, allora basta, non possiamo più. Quando io fu posto in pensione, ho fatto un nuovo incontro, poi molti corsi di teologia, eccetera, e poi ho detto, no, è il momento di iscrivermi all'Università. Il rapporto con i ragazzi e l'Università è un rapporto straordinario, prezioso, veramente, come dire, affettuoso, direi, ecco. La mattina comincio a studiare alle nove, poi c'è l'intervallo del pranzo, riprendo a studiare alle 16, fino alle 20. la cena, è un piccolo intervallo, e poi riprendo dopo cena. Questa macchina da scrivere mi ha regalato a mia madre. Dovrei passare al computer, l'ho provata per un bergerio, però poi sono tornato alla mia macchinetta eltera a 32, perché mi trovo la meglio. La laurea l'ha conseguita a 97 anni, siccome il primo anno si è concluso con tutti i 30 e lode, io il terzo spero di ripeterla, di esplorare i primi due anni, e quindi dovrei riuscire con 110 e lode. Antonella Ferrara, grazie, grazie di aver incontrato questo formidabile signore. Allora, lui uscirà a 97 anni con 110 e lode, Margherita Ogero è uscita con un libro, guardate com'è grande, è piccolino così, si chiama Guerra e pane, ed è meraviglioso, perché lei con due ricette e con l'intera storia della sua famiglia ci insegna che il pane è sacro, che il pane è la cosa più sacra che abbiamo, e la famiglia pure. Certo, soprattutto in tempi, adesso si migliora un po', ma di grandi sprechi, per cui il pane si butta via, mentre invece durante la guerra, quando è tornato mio padre, quindi aveva bisogno di particolari, una particolare alimentazione, perché non avendo più un dente in bocca era necessario nutrirlo come si poteva, e quindi lo si nutriva con delle minestre di pane, però la minestra di pane andrebbe fatta col pane raffermo, se non che in guerra non diventava mai raffermo il pane, perché ce n'era troppo poco. Si mangiava subito. Si mangiava subito, e quindi c'era il grande problema di riuscire ad approvvigionarsi sufficientemente di pane per poter fare anche una minestra. Io non vi dico niente di più, Guerra e pane lo trovate in libreria, ripeto, guardate, posso signora? Prego, certo. In fondo, credetemi, questi due libri sono uguali. Questo nasce dal sangue versato dai compagni del papà della signora Ogero, e da un padre che ha dovuto faticare, oltre a tutto quello che ha faticato per restare in vita, per farsi chiamare papà da sua figlia. Quindi, signora, grazie. Grazie a voi. Grazie, veramente grazie. Adesso, prima di spostarci, vi faccio vedere quanto sia gigante la signora Ogero. Venga con me. Gigante. Perché lei si è lamentata di essere piccinina, né? Eh, accidente, sono piccolissima. Venga qua, si metta davanti a me, e con questo noi, così, voltiamo pagina, perché me la volevo abbracciare. Grazie. Grazie. Ora vi presento una persona che abbiamo fatto in modo che fosse nostra ospite perché fosse vostra ospite. Abbiamo voluto che fosse in questo studio perché arrivasse ovunque. Abbiamo fortemente desiderato che ci venisse a trovare perché rappresenta da sola una enciclopedia di mille volumi che ti insegnano tutti una cosa sola, vivere. Questo è il senso della presenza qui con noi di Laura Rampini. E questo, tanto per incominciare. Cara Laura, benvenuta. Grazie mille. Ho detto bene? Ma a me è piaciuto quello che ha detto, insomma. Perfettamente. Già, abbiamo. Anche tanto di più di quello che avrei mai sperato, benissimo. Allora, tanto di più di quello che avrei mai sperato. Laura è una serie di date messe insieme. Laura è una donna eccezionale, da cosa partiamo? Dalla data di nascita. Dalla data di nascita? Partiamo dalla data di nascita, forza. Beh, di solito tutte le storie hanno un inizio, no? E la storia di qualsiasi persona inizia dalla data di nascita, perché l'inizio di tutti noi è la data di nascita. Non parliamo della fine, perché è una cosa della quale... Ma non la sappiamo, per cui la lasciamo dov'è. Esatto. Quindi è data di nascita. Io sono nata in un paese, alle pendici del Monte Cucco, si chiama Sigillo, in provincia di Perugia, 47 anni fa. Complimenti, prima, poi. E quindi da lì poi è iniziata tutta la storia della mia vita. Ho avuto un'infanzia, ho visto tutta la mia infanzia, la mia adolescenza, la mia giovinezza lì, fino all'età di 36 anni, quando poi mi sono trasferita a Ravenna, e dove ho raggiunto un po' quello che era il sogno della mia vita. Prima del sogno della sua vita, e nelle immagini che passavano di lei da piccolina, dovete immaginare un furetto, cioè una cosa che non stava mai ferma, ed è rimasta tale, ve lo possiamo garantire. Nonostante voi la vediate su una carrozzina, sta qua, stanno qua i mille volumi di enciclopedia. E insomma un furetto. Lei non stava ferma mai, era sempre... Mi chiamavano Heidi, infatti. Perché ero sempre una bambina un po' zoppettante, canterina, con le pappuzzette rosse, bella paffutella, quindi mi chiamavano Heidi. Sono sempre stata una molto chiacchierona, una molto sorridente, solare, e ho visto sempre il bicchiere mezzo pieno, una positiva, da quando ero bambina. Che poi, come si dice, il buongiorno si vede dal mattino, lo si vede fin da piccolini, poi è vero che crescendo la maturità ti cambia, ti perfeziona, ti modella. Però poi ci sono quei tratti di base che io me li sono ritrovati nella vita, che per me sono stati fondamentali. Avere un carattere sereno, allegro, positivo, e vedere il bicchiere mezzo pieno, per me è stato fondamentale poi in un percorso di vita che si è delineato molto difficile, ma al tempo stesso nelle difficoltà ho sempre avuto, per fortuna, e ringrazio Dio per questo, quella forza di carattere, quella forza d'animo, che mi ha aiutato a superare tutte le vicissitudini della vita. Di quelle interviste dove sostanzialmente tu non servi a niente, tu sono io Paola, però sopportatemi, ogni tanto faccio qualche domanda, mi sopporto pure io in questo momento. 3 settembre 1993, giovanissima, Laura diventa mamma, è bimamma, eh? Ma è mamma di Luca. Luca, mettete un asterisco su Luca, come ha scritto la nostra Sara Lucernoni, che ancora ringrazio, perché Luca sarà molto importante nella vita della mamma. Voi dite per forza un figlio lo è? No, sarà importantissimo. Nasce Luca nel 93, e a gennaio del 1995 che cosa succede? Gennaio del 95, una giornata come un'altra, la quotidianità che si sussegue, come tutti gli altri giorni, con mia sorella stavamo andando a ritirare il registratore di cassa per il secondo punto di vendita che volevamo aprire, perché io avevo già un negozio, mia sorella era entrata in società con me, in questo negozio di abbigliamento, dovevamo aprire il secondo punto vendita, l'entusiasmo di due ragazze giovani, io dico due ragazze perché avevo 22 anni, mia sorella 18, l'entusiasmo aprire il secondo punto vendita, vedi tutto bello, tutto rosio, lungo il percorso che ci divideva dal mio paese al paese dove dovevamo andare a fare questo acquisto, che sono 20 chilometri, a metà percorso, la macchina dal senso opposto al nostro senso di marcia sbanda e ci prende in pieno. Da quel momento la mia vita è cambiata. Diciamo che la mia vita è rimasta sempre la stessa, però è cambiata la condizione perché la diagnosi dopo quell'incidente, quel terribile incidente, fu una doccia fredda, lesione al midollo e paraplegia agli arti inferiori. Una sentenza senza appello, nessuno ti ha chiesto il permesso per questa cosa, non ci sono cure, non ci sono sconti di pena, questo è. e quindi la prima cosa che devi imparare è tornare nuovamente a vivere la tua vita con una condizione diversa, quella stessa vita che non è che cambia direzione, fa sempre quel percorso, ma sei tu che hai cambiato la tua condizione, ma posso dire una condizione che assolutamente cambia il percorso della tua vita, perché si può vivere una vita a 360 gradi anche con una carrozzina. È un compromesso quotidiano... È in dubbio, è in dubbio che è un compromesso quotidiano con la vita, senza spiegazioni, perché è oggettivo, dal momento che ti alzi la mattina che devi salire in carrozzina e la tua vita si sussegue, è scandita da tempi diversi, i tempi si allungano un po', e poi il problema più piccolo è la carrozzina, perché dietro ad una paraplegia, ad una lesione al midollo, ci sono tante altre problematiche che poi tornano a diventare parte della tua quotidianità. Inizialmente non è facile, perché a 22 anni ti senti invincibile, a 22 anni pensi che non ti succeda niente, vedi che succede agli altri. Poi io mi ero sposata da un anno e mezzo, avevo avuto il figlio, quindi sembra tutto bello, la tua casa, inizi la tua vita, tanti sogni, un futuro che lo vedi immenso solamente di prati fioriti e di sole, perché a 22 anni è così. Improvvisamente invece ti accorgi che quel sole si spegne all'improvviso, perché nel momento che ho riaperto gli occhi, dopo il coma, un coma di sette giorni, e poi c'è stato un percorso, perché ho riaperto gli occhi, poi per tornare alla vita c'è stato un percorso di altri due o tre mesi, io mi sono resa conto che quella luce, in quel futuro meraviglioso che io avevo così tanto desiderato, si era spenta. il passato era doloroso, perché io quel passato non me lo potevo più riprendere, non c'era nessuna speranza di riprendermelo, e il presente era difficilissimo da vivere. Poi pian piano, comunque sia dentro di te la voglia di vivere, la vita è un dono meraviglioso, quindi la voglia di vivere scalpita dentro di te, anche se il dolore è immenso, e ti travolge, e a volte ti sembra di non avere la forza per superare quel dolore, dici non ho abbastanza forza per superare questo dolore, è troppo grande, però tu ti rendi conto che la forza della vita che hai dentro inizia a scalpitare e diventa più potente di quel dolore che ti ha travolto. E quindi ho ricominciato a vedere quella luce nel futuro, e quando ricominci a vedere la luce nel futuro vuol dire che programmi, perché il futuro è illuminato, perché tu lo programmi, che sia un sogno, che sia un progetto, lo illumini tu con i tuoi progetti di vita. Ho ricominciato a vedere quella luce nel futuro. il passato non era più così doloroso, perché riuscivo a ridere dei momenti belli, a ricordare con tristezza i momenti brutti che tutti abbiamo nella vita. E il presente, dico però, caspita, non è poi così difficile. Adesso, certo, non è neanche facilissimo, però non è così difficile come pensavo all'inizio. E giorno dopo giorno quella luce è diventata una luce luminosa, immensa, nel futuro. Quel passato che era prima doloroso, poi di meno, è diventato il mio passato, il mio orgoglio di passato come è l'orgoglio di ognuno di noi nel passato. Orgoglio, rimpianto, rimorsi, tante cose è il passato. E il presente ricominciavo a vivere con il sorriso, mi svegliavo la mattina con la voglia di fare anche le piccole cose, spazzare il pavimento, poter cucinare qualcosa, accudire il mio bambino che era piccolo. Luca, come vi sentite a casa? Come vi sentite voi? Io li vedo loro. Io loro li vedo, li sento pure quando sono di spalle. Lei è una bomba atomica, Laura. Lei è pericolosa. È pericolosamente, meravigliosamente pericolosa. Grazie. Perché lei insegna a vivere. Così. Ma sai cosa ti dico, Paola? Ho trovato del tu. Sì, sì, no, diamoci del tu. Sai cosa ti dico? Io dico una cosa, io ho una carrozzina e si vede. Ma chi è che non ha una carrozzina nel cuore? Chi è che non ha un dolore, una sofferenza per il quale piangere? Io non mi devo sentire più sfortunata di altre persone perché gli altri camminano. Perché io potrei essere molto più fortunata di una persona che cammina. E io su questo ho lottato tanto. Io sono 11-12 anni che mi impegno nel sociale e con altri ragazzi disabili io lotto per questo. Perché noi non ci dobbiamo sentire più sfortunati di altre persone perché abbiamo avuto un incidente che ci ha cambiato la vita? Perché ci sono carrozzine nel cuore molto più pesanti della nostra carrozzina. Poi è vero che ognuno si sente il proprio come si dice, ognuno si sente il proprio. C'è chi sta peggio, sì, ma c'è anche chi sta meglio. Sì, però noi dobbiamo pensare che il mondo è fatto così per tutti. Io non ho mai conosciuto una persona che non ha da dirti una sofferenza, che non ha una lacrima da versare con te perché purtroppo la vita è così per tutti. Magari ci fosse qualcuno che mi dicesse io una vita meravigliosa non ho mai avuto una sofferenza, un inciampo, un ostacolo nella mia vita. Magari, purtroppo non è così. E forse il bello della vita è proprio questo. Lo sapete che cosa succede a questa donna? Succede che, provo a dirlo di corsa, così non mi commuovo, che suo figlio, Luca, che non la vuole, che non recepisce che quella seduta sia sua mamma, un giorno fa una cosa meravigliosa. Sì, sì, lo vediamo Luca. Cioè, Luca aveva paura di farle male. Luca era piccolo. Sì, Luca per tanti mesi non mi ha visto, stava con mia mamma, quindi lui si è attaccato alla nonna. ha sentito il distacco dalla mamma, tant'è che lui prendeva la rincorsa e batteva la testa contro il muro e le psicologhe dissero che era piccolo e tu non gli puoi spiegare perché 14 mesi non gli puoi spiegare la mamma si è fatta male, sta in ospedale e non la puoi vedere. Quindi lui ha sentito l'abbandono improvviso. E poi? Quando hanno ricominciato a mandarmi a casa per i weekend, perché ti iniziano tanto a rimettere nella tua quotidianità, lui non mi riconosceva come mamma e mi stava lontano e io soffrivo più per quello che per il fatto della carrozzina. Poi logicamente io ascoltavo i consigli dei medici perché dovevo fare il bene del mio bambino innanzitutto e mi dissero che devo lasciarlo fare. Quindi se lui si avvicinava lo dovevo lasciare avvicinare e se no non lo dovevo costringere. E lui pian piano sai come tutti i bambini si avvicinava con i suoni malettini, giocava, aveva paura di venire ti faccio male, faccio bua, sai i bambini parlano così. Certo mi vedeva in una condizione diversa poi vedeva tanta apprezzione un po' intorno a me quindi anche lui Ma quando è che ha fatto il grande salto Luca? Il grande passo che è stata una serata la più emozionante credo della mia vita eravamo a tavola io dovevo ripartire la sera per andare per ritornare in ospedale lui non si metteva mai vicino a me si metteva vicino a mia mamma quella sera ce l'avevo davanti mi ricordo ancora che avevamo ordinato le pizze quindi arrivano queste pizze sai apri la scatola mentre apri le scatole lui si era messo in piedi sulla sedia ti ho avuto l'istinto di dire attento che cadi no? E lui fa mamma ma te sei mamma? ancora mi emoziono nel raccontarlo forza provi a dirlo che io non ci riesco provi lei ti sei mamma e tu sei amore io sono la mamma vieni dalla tua mamma ma ti sei mamma ti sei mamma ha iniziato a piangere è sceso dalla sua sedia anche lui un po' tozzettino come ero io da piccolina è venuto verso di me sai si è arrampicato come un quale quasi sulle gambe mi ha abbracciato beh quella sera non abbiamo mangiato nessuno perché è stata per tutti un'emozione grandissima perché tutti vivevano un po' la mia voglia di sentire mio figlio allora aiuto qualcuno ci aiuti e ci aiuta Matteo Forino il nostro Matteo Forino perché c'è un'altra data oltre a diventare mamma di Nico di Luca di Luca e di Nico nel 1998 quindi un altro bimbo nel 2004 guardate che cosa fa io ve l'avevo premesso però 2001 io vevo abizzato a Grazie a tutti. Laura è la prima persona con disabilità al mondo a essersi lanciata da sola con il paracadute, ha all'attivo 164 lanci, una quantità di premi che vanno dalla folgorina, pure la folgore le ha dato un premio, addio se non sa quante altre, lei è cavaliere della Repubblica, ha un palmares che neanche Robert De Niro ha tanti premi così, io non lo so. Lei è straordinaria, lei ha preso e si è andata a lanciare col paracadute perché la vita deve continuare normale come prima, seduti più bella di prima. Ah beh, dico bene? Sì, sì. Come fa a lanciarsi? Con che? Allora io mi lancio con una tuta normale da paracadutista, ho il mio paracadute e poi quando io apro la vela e quindi inizio le manovre per l'atterraggio ho una carucola con la quale tiro sulle gambe e le gambe sono già in posizione seduta e io atterro seduta. E non ha paura veramente di stare lassù? No, è il momento più bello stare lassù, quello che si vive lassù è indescrivibile, il senso di libertà, il tutto e il niente, hai l'infinito che diventa, che tu lo abbracci, abbracci l'infinito, è un controsenso di abbracciare l'infinito. No, no. Eppure in quel momento tu abbracci l'infinito ma nell'infinito non c'è solo quello che vedi, ci sono le emozioni, ci sono le sensazioni, c'è il silenzio, c'è un tutto, abbracci un infinito e il tutto. Allora Laura sarà cuoca per un giorno perché sa anche cucinare e ha detto che c'è, io vado e faccio, so cucinare. Ho dato vita a questo progetto per la mia grande passione di cucinare, ho chiesto ad un ristoratore di Ravenna, Antonio Mazzetti, che è il ristoratore della taverna San Romualdo, gli ho detto io avrei questo progetto, vorrei fare cuoca per un giorno, il progetto si chiama Cucinando e tu ci stai, gli ho detto io ci sto perché come te sostengo questa passione, questa voglia di comunicare, questa voglia di fare. E non ci sono barriere. E non ci sono barriere. Il senso è questo. Sì e far vedere che volere è potere, che tu comunque puoi realizzare i tuoi sogni. Sì, lei adesso però mi deve dire, lei da grande che vuole fare? Ma io adesso... In due parole me lo dica, che vuole fare? Adesso da grande, sì, mi piace la parola da grande perché ancora non mi sento grande, anche se lo sono abbastanza. C'ho il progetto questo adesso del quale tengo tanto che è il cortometraggio Normabili per la regia di Gerardo Lamattina, abbiamo già girato il teaser, abbiamo iniziato le riprese, finiranno il prossimo anno a maggio e in questo progetto è la normalità nella disabilità. Sarà un cortometraggio, un viaggio in moto, io viaggerò da passeggera e il messaggio che voglio lanciare è quello per tutti, però da una parte per il disabile dire nel momento in cui tu tornerai a piacerti e ad amarti nella tua nuova condizione, chi sta davanti a te non vedrà più la carrozzina perché sei tu che gliela fai vedere, ma vedrà la persona ed è quello che avviene nel cortometraggio. Allora, noi ci fermiamo, ci fermiamo solo per un attimo, torniamo subito, chi vuole, chi vuole se la venga a baciare per favore, parto io, dai, forza, parto io, parto io. Allora, siamo rientrati sul, ma che butti giù per terra, Don Matteo Galloni, ben trovato. Buona giornata. Don Matteo mio, si perde pure i pezzi. Ah, forza. Allora, Don Matteo Galloni, punto. Però, per quei due che non lo conoscessero, due, eh, sacerdote, su questo non ci sono dubbi, romano, romanissimo, non ci sono dubbi, ha fondato la comunità Amore e Libertà nel 1988 per raccogliere, esattamente come in una famiglia, perché così bisogna fare, bambini e ragazzi abbandonati. Tutto parte sempre da qualcosa o da qualcuno. Nel tuo caso, Don Matteo, chi sono stati i quattro moschettieri che ti hanno fatto venire quest'idea? No, diciamo, l'idea è venuta, è una vocazione che è venuta dal Signore, perché io sono nato e vissuto a Roma, ho studiato nelle migliori scuole, mio padre e mia madre sono andati in cielo e mi hanno, lui era un politico, mia madre era una professoressa universitaria, e quindi ho studiato nelle migliori scuole, e quindi avevo tutto nella vita. Un anno avanti a scuola, ho finito il liceo classico a 17 anni, a scuola sempre il massimo dei voti, sport, la moto, la ragazza, e ho iniziato a interrogarmi, erano gli anni 70, 68-70, perché io avevo tutto dalla vita, ma anche in Italia e nel mondo c'erano ragazzi che non avevano una famiglia, non avevano un punto di riferimento. Un piccolo numero, perché sono l'1-2% in Italia e il 10% in Congo, perché normalmente, anche se sono povere, hanno una famiglia. Ma io parlo di quei ragazzi che per un motivo o per un altro hanno privi del sostegno familiare. Io mi permettevo di dire quattro moschettieri, perché ad un certo punto, però questo ora ce lo racconta Don Matteo, ci sono quattro ragazzini di 13 anni, testuale. Noi siamo i perdenti della vita, siamo senza futuro e senza speranza, non abbiamo mai avuto una famiglia. È un'immagine dickensiana, provare a immaginare, Dickens, esatto, raccontava così bene queste storie. Bambini che non abbiano una famiglia. Un conto è non avere una famiglia da grandi, un conto è non averla da bambini. E proseguono questi quattro ragazzini, ma se tu ci prendi a vivere con te e ci fai da babbo, noi possiamo cambiare vita. Questa che tu dici è la vocazione nella vocazione, perché io ero già sacerdote da due anni, quindi come ero diventato sacerdote, perché ho maturato la mia vocazione nelle borgate di Roma, poi ho fatto un percorso lungo, ho voluto fare l'operaio prima di diventare sacerdote, poi ho preso due lauree e poi ho iniziato a fare il sacerdote. E ho capito per un attimo. E lì hai conosciuto la povertà. Ecco, lì ho voluto fare, visto che venivo da una famiglia molto abbiente, ho voluto vedere com'era l'altro mondo e quindi vivere con i poveri e stare con i poveri. Anche se ho ricevuto delle lezioni di vita, più che le università che ho fatto, dalla gente di Borgata, dalla gente che stava lì, perché io me ne andai di casa, e andai a vivere nelle baraccopoli di Roma e ci avevo, visto che raccontiamo una persona che lo chiamavo nonno Nando, e un giorno dissi, guarda, io ho lasciato tutto, come San Francesco, vivo con i poveri, seguo il Signore, faccio scuola ai bambini e quindi io sono come uno di voi. La stessa cosa mi è successa in fabbrica, lavoravo e mi è stata data questa risposta, no Matteo, tu non sei come uno di noi, perché tu hai scelto di venire tra i poveri e farti poveri, noi rimarremo sempre poveri. E questo mi ha fatto capire che bisognava cambiare la storia, perché questi ragazzi, di cui parli, è stata la vocazione nella vocazione, perché dopo che ero sacerdote ho visto che ho girato varie case famiglie, istituti, e non possono esistere persone che hanno avuto un papà, una mamma, una famiglia e persone a cui questo è negato, e quindi non hanno prospettive. Persone che non hanno niente. E sono quelli che poi arrivano a delinquere, a fare del male perché si incattiviscono, perché questi diventati grandi, perché loro non hanno avuto questo, è un'ingiustizia, è una cosa, sono gli ultimi del Vangelo. E io, quando questi quattro ragazzi mi hanno sconvolto, mi hanno detto come tu, ci prendi a vivere con te, ho capito che era una vocazione nella vocazione, quindi dovevo ricominciare da capo. La comunità fa sì che, come avete appena notato, Don Matteo Galloni generalmente gira con quattro rubriche del telefono, ha sempre qualcosa in mano, abbiamo per pietà nascosto i fili del telefono, perché ha il telefono in tasca, gli prende il filo dell'auricolare, ma soprattutto porta quel cuore. dona al 45589, siamo in fine di questa campagna, perché la campagna dura fino al 31 ottobre, ma noi proprio perché siamo alla fine, alla fine siete chiamati a donare altrettanto, per i progetti, per sostenere i progetti di accoglienza di questa comunità, Amore e Libertà Onlus. Potete inviare un sms al 45589 dal cellulare, per donare due euro, due caffè, ricordo sempre, oppure il 45589 lo chiamate da rete fissa e lì decidete se donare 5 o 10 caffè, cioè 5 euro o 10 euro. Abbiamo delle immagini, così lui sta un attimo zitto, ma poi ricomincia a parlare. Vediamo. Non ero ancora sacerdote quando la prima volta andai in Congo per accogliere i primi bambini di strada. Tanti oggi sono vivi e hanno una famiglia che li ama. Migliaia, però, sono quelli ancora vittime di violenze e di abbandono. In ognuno di loro c'è il Signore. Aiutaci a salvare un bambino. Dona al 45589. Aiutaci. Allora, donare perché quando... Poi guardate, qui è tutto un po' confuso, però poi ritorniamo sulla sua vocazione sacerdotale. Però quando sei già sacerdote, hai capito di dover donare, vai nei luoghi della povertà e capisci che se dai 5 euro laggiù, 5 euro laggiù, vogliono dire, vogliono dire poter fare veramente un grande cambiamento. E allora lotti perché tutto questo accada. Sì, infatti perché ho preso coscienza che non solo c'era da cambiare la storia di questi bambini, sono migliaia di bambini in questi anni che hanno avuto una famiglia, hanno avuto in noi un punto di riferimento, ma ragazzi che si sono laureati, sono diventati avvocati, lavorano e ovviamente si sposano. Io sono il nonno di questi bambini, perché da una parte o dall'altra... Quanti figli hai? Figli e nipoti? Sono centinaia, non li conto, sono centinaia, ma oltre però a lavorare per questa che è la nostra famiglia, è la nostra famiglia allargata perché viviamo un po' come gli atti degli apostoli, accogliamo altre persone e a Kinshasa ci hanno affidato una zona pastorale di 74 mila abitanti, senza scuola, senza chiesa, senza nulla. E noi abbiamo iniziato ad accogliere questi bambini, a curarli e abbiamo aperto una scuola per loro. Classe dopo classe sono 900 bambini orfani, bambini che stavano sulla strada che adesso hanno un futuro. Per questo noi vorremmo rendere partecipi tutti voi, perché siamo nel mese missionario straordinario e quando io dico un SMS di 2 euro al 45589 o dal telefono fisso di casa 45589, noi vorremmo che, proprio perché siamo all'ora solare, che un raggio di sole illumini i vostri cuori, perché quando si fa del bene, si sta bene, cioè è il Vangelo che c'è più gioia nel dare che nel ricevere. È vero che siamo in una crisi economica, siamo in difficoltà, ma un SMS di 2 euro al 45589 o dal telefono fisso di casa 45589 vi assicuro vi darà una luce dall'alto. Oltre a dare questo numero in maniera giustamente ripetitiva, 45589, così l'ho detto anche io, poco fa è passato volando sopra Don Matteo, ha parlato di ragazzi che sono diventati avvocati. Allora, quando si tira fuori dalla povertà più estrema qualcuno, lo si mette piano piano in condizioni di andare a scuola, di migliorare la propria esistenza. Migliorare la propria esistenza vuol dire anche, anche se il mondo è fatto per essere girato, anche con i tuoi calzari e i tuoi piedi nudi, si mette in possibilità alle persone di rimanere anche nella loro casa, nella loro terra, di non dover scappare perché c'è fame. E infatti tu stai dicendo una grande verità, con i 900 ragazzi che abbiamo preso a scuola, abbiamo creato posti di lavoro, la gente sta bene in Congo, il Congo è un paese meraviglioso, però se non gli diamo la possibilità di mangiare, di vivere, vogliono scappare. Ma invece noi abbiamo fatto una scuola di qualità, i ragazzi migliori della scuola, fanno il test nelle ambasciate e sono venuti in Italia con la borsa di studio, sia in Italia che all'Uvano. Quindi noi vogliamo creare questi ponti, ma io dico un altro motivo. Quando tu dai il 45589, un sms di 2 euro, o dal telefono fisso fai il 45589, ma non solo per una motivazione di donare agli altri, ma fai del bene a te stesso, perché crei dei ponti di solidarietà all'altro, diventa una ricchezza. Questi ragazzi che studiano, fanno amicizia con tutti e stanno bene, non hai più paura dello straniero che arriva. Allora, si chiama costruzione di, è una parola forte, dignità. Cioè, nessuno di noi ha piacere a stare seduto nel fango, a non mangiare e a cadere nelle mani sbagliate. Provate a impazzare bambini e bambine. Che cosa ne può succedere? Allora, chi opera per il contrario, opera bene. Noi, che non andiamo magari direttamente in questi luoghi, possiamo però essere d'aiuto. Però c'è una cosa che voglio chiedere al Don Matteo, che decide un giorno di diventare sacerdote. Il tuo papà e la tua mamma, la tua famiglia, i tuoi amici, che cosa ne hanno pensato? Beh, quando ho preso quella decisione, potrei citare la frase di San Francesco, perché è stato il mio patrono, il mio esempio, mi ha dato una forza perché avevo troppo da perdere, lasciare la casa, la famiglia, la ricchezza, la ragazza, i soldi. E San Francesco, quando gli viene chiesto che cosa doveva fare, questa è la frase che mi ha aiutato, diceva, in latino medievale, la traduco, il Signore mi ha detto che dovevo essere un novello pazzo nel mondo. Ecco, allora mi hanno dato un po' di pazzo, perché andare a vivere in una baracca, senza acqua, senza elettricità, senza nulla, vivere da povero, andare a fare l'operaio, eccetera, e voleva dire andare controcorrente. Ma dopo il discorso, quando è una persona che fa questo gesto, e vieni considerato un folle, ma quando questo gesto diventa un ponte, come dice Papa Francesco, di collegamento tra coloro che hanno avuto tanto e coloro che non hanno, diventa una cultura, una cultura di solidarietà. Oggi i tuoi amici non ti dicono più se sei stato matto allora. No, perché sono diventati matti anche loro, perché sono diventati una comunità enorme, una grande cosa. Perché sei contagioso Don Matteo, questa è la verità. Ma è la bellezza del Vangelo, del donare, perché tutti abbiamo, siccome siamo stati creati, cioè che crediamo o no, perché mi rivolgo anche alla gente che non crede, siamo creati a immagine e somiglianza di Dio, e l'immagine è l'amore. Quando noi facciamo gesti di amore, siamo bene, infatti dico voi, provate a fare questo gesto di amore, il 45589, un piccolo gesto. Fermo, assolutamente. Sarete bene, si sta bene. Abbiamo dato questo numero, 45589, chiudo velocemente la recita, la cononcina della Divina Misericordia, e poi domani vi aspettiamo alle ore 14, perché l'ora solare è questo, anche questo. Don Matteo Gallone, grazie a tutti, puntatona oggi, grazie a tutti. Chiudiamo qua, chiudiamo qua, chiudiamo qua. Don Matteo, e poi non dirmi che non abbiamo dato il numero tutte le volte che lo dovessi... e poi non dirmi che non abbiamo dato il numero tutte le volte che lo dovessi... Grazie a tutti.